Ciao ragazzi, siamo arrivati alla Fiumara e ora sono pronto per fare il Master Versus Studio ci vediamo direttamente lì eccoci qua ragazzi, la versione è arrivato e ora dovrò mangiarlo intanto c'è anche com'è densa la salsa barba in più che è pittante perché la difficoltà sarà mille occhiali togliamoli grazie a tutti 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 voleva salvarsi quella patatina grazie a tutti 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 grazie a tutti